E' ufficialmente nato il governo del presidente, come spiegava il politologo Angelo Panebianco dalle pagine del Corriere della Sera di domenica. Quello che il nuovo primo ministro Mario Monti ha presentato oggi non può dirsi infatti governo tecnico, come assurdamente si continua a dire. Ma se i tecnici esistono e i governi tecnici no, fermiamoci alla forma che ora prevede che sarà di nuovo il Parlamento a dare la fiducia alle azioni che la squadra del senatore a vita intraprenderà. Tra i tecnici non politici convocati, Bologna mette il suo punto sul nome di Piero Gnudi, classe 1938, laurea in Economia e Commercio all'Alma Mater, titolare di un importante studio commercialista sotto le due torri. Gnudi è stato presidente di Enel e ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell'Iri. Un avvicinamento al destino politico del paese lo aveva già vissuto con il governo Dini nel 1995, quando fu nominato consigliere economico del ministro dell'Industria, che all'epoca era Alberto Clò. Oggi Monti lo chiama a Roma per occuparsi del di Castero, senza portafoglio, del turismo e dello sport. Grande appassionato di ciclismo e del Bologna Calcio, qualcuno lo definisce il Cuccia di Bologna. Molto vicino al leader dell'Udc per Ferdinando Casini, Gnudi vanta ottimi rapporti anche con l'altro bolognese del terzo polo, Gianfranco Fini e con Romano Prodi. Chi lo descrive è capace di navigare sul confine delle relazioni politiche bipartisan, chi è un tipo assai navigato. Chi infine ne ha riconosciuto le grandi doti di dialogo e concertazione è stato la D dell'APT dell'Emilia Romagna, Andrea Babbi. La nomina del dottor Piero Gnudi è un'ottima notizia per il turismo italiano, ha scritto in un comunicato. Stimato professionista, le sue competenze di grande manager sono una garanzia per lo sviluppo del nostro turismo e la promozione dell'Italia nel mondo.